Ciao, sono Monica di Impara, l'inglese con monica.com e nella lezione di oggi voglio rivelarti il significato dell'Idiom of the Week che ho selezionato per te questa settimana. The idiom of the week of today is down to the wire. Down to the wire means until the last possible second. L'espressione idiomatica down to the wire significa quindi in italiano all'ultimo momento, in zona Cesarini potremmo anche renderla. Vediamo un esempio. The Democratic candidate won the elections down to the wire. Il candidato democratico ha vinto le elezioni all'ultimo momento. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto la prossima settimana con un nuovo Idiom of the Week e nel mentre ti invito a condividere questo video e a taggare una persona alla quale credi questa espressione idiomatica possa essere utile. A presto! A presto!